Ci siamo spostati di poco davanti al secondo polo attrattivo di questo santuario. Naturalmente il corpo di Don Orione meta ogni giorno di pellegrinaggio da parte della gente che lo ama. Ancora prima di chiamarlo santo rimane sempre Don Luigi o Don Orione. Tutti lo chiamano il nostro Don Orione, nessuno lo chiama San Luigi Orione, perché c'è verso di lui un affetto direi molto bello, intimo, la gente lo sente vicino ai problemi che può avere e quindi viene e lo prega qui nel territorio. Don Orione ha visitato tante famiglie, tante persone che vengono e danno testimonianza che nel loro caso Don Orione è passato, si è fermato, ha guarito tante persone dai mali spirituali e anche dai mali materiali. Oltretutto questa sua voglia di stare in mezzo alla gente, nelle strade, fra le persone e quindi di sporcarsi le scarpe, togliersene a volte e regalarle al povero e se le portate anche all'interno della sua urna in qualche modo. Certo, perché abbiamo una bella testimonianza proprio lì all'urna che ha queste scarpe Don Orione e una di queste scarpe è bucata e ci si domanda ma perché non hanno messo un paio di scarpe nuove? Le scarpe nuove sono state messe, il problema è che nell'80 quando hanno messo queste scarpe nuove la mattina queste non c'erano più, erano uscite dal piede e per tre volte consecutive li hanno rimesse ma niente Don Orione non le voleva le scarpe nuove probabilmente perché appunto quando lui andava in questi paesi, quando si muoveva e vedeva un povero chiamava il povero e dava le sue scarpe e quindi probabilmente ha detto io sono nato povero, sono vissuto povero, lasciatemi le mie scarpe da povero. Don Renzo, qua si conclude il nostro viaggio di oggi, perché proprio davanti a questo crocifisso? Che cosa ha di così particolare? Perché questo crocifisso è il crocifisso che Don Orione aveva nella sua camera ai piedi del suo letto da quel crocifisso lui ha tratto tanta tanta forza ed è lui che vuole che questo crocifisso sia posto all'ingresso del santuario noi in questo periodo della Quaresima lo mettiamo qui in venerazione per tutte le persone e i pellegrini che vengono in santuario. E allora grazie per averci accolti come pellegrini quest'oggi Don Renzo e per averci portato sui passi di Don Orione e del suo grande amore che è quello per Maria, grazie ancora Don Renzo. Io ringrazio voi e vi ricordo solo una cosa, Don Orione quando celebrò la sua prima Santa Messa chiese una grazia particolare al Signore, quella che tutte le persone che lo incontravano da vivo o avrebbero sentito parlare di Lui anche dopo la sua morte avessero il dono della salvezza eterna quindi è l'augurio che faccio a tutti voi e faccio a me. Grazie infinite e naturalmente anche noi a lei, grazie Don Renzo e a te Lucina.